Buongiorno, siamo all'SOS Pavese, pubblica assistenza e organizzazione di volontariato. Venerdì mattina alle 6 e mezza un nostro dipendente è venuto per fare un servizio con la macchina trasporto sangue e farmaci e purtroppo ci siamo trovati questa brutta sorpresa, direi molto molto brutta. Da anni sia dentro che fuori, probabilmente hanno tentato di rubarle perché c'è anche vari avviamenti messi male e adesso aspettiamo il perito e non sappiamo che ringraziare. Grazie a tutti.